Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare della mia ennesima esperienza inguaiata con internet. Chi mi segue da tanto sa che ho sempre avuto problemi con la connessione ad internet. Probabilmente la colpa è in gran parte mia che voglio fare il passo più lungo della gamba, che mi affido a servizi che non dovrebbero essere dedicati al business per farci cose relative al business. Però di fatto forse la mia fiducia è sempre stata troppo alta verso questo tipo di servizi, questo tipo di cose in generale. Cerco di dirla nella maniera più delicata possibile perché potrebbe essere molto pungente ciò che sto per dire e l'argomento di cui sto parlando. Quindi vorrei evitarmi qualche chiappa rotta, ecco. Voglio riservarmelo ben funzionante il mio culo, ok? Bene, io adesso prendo il telefono, ok? E vi faccio vedere com'è la situazione attuale, anche se probabilmente potete vederla in gran parte da così. Come vedete però, scusatemi se c'è ancora un po' di casino, un po' di cavi, così devo ancora finire di sistemare. Comunque io di linee Vodafone non ne ho una, ne ho due, insieme a due modem di Vodafone. Potreste chiedervi perché io vi stia facendo vedere i due modem di Vodafone? Beh, perché il problema non è insito nel servizio di Vodafone che ti arriva fino a casa, il problema è insito nel modem. Il modem, a quanto pare, e non solo da questa nuova versione, quella grigia, ma anche per quanto riguarda quella bianca, insomma per tutti i modem chiamati Vodafone Station, crea problemi. Io prima non avevo mai avuto Vodafone, quindi non avevo mai avuto questa possibilità, insomma, di testare i modem e capire se ci fossero problemi. Ho sempre avuto o Infostrada, adesso Wind3, insomma, non so se si chiami ancora Infostrada, Team, ho avuto Fastweb, però non ho mai avuto Vodafone. Ho iniziato a utilizzarla come operatore quando sono passato col numero mobile a Vodafone. Devo dire, sinceramente, non mi ha mai creato problemi, buona copertura, insomma, è un buon servizio fino a casa. Il problema, appunto, è il prodotto, il modem. Partiamo da un altro presupposto. Io in casa ho un sacco di dispositivi e arrivo a connetterne per ora una cinquantina, ma in realtà si parla di più dispositivi ancora se ci stanno più telefoni accesi, se ci sta qualche ospite. Perché questo? Perché ho tutta la casa gestita con dispositivi smart, quindi ogni dispositivo o, in generale, ogni centralina comunque ha bisogno di connettersi tramite Wi-Fi per ovvi motivi. Insomma, il problema si è creato appunto quando c'erano ospiti, perché ovviamente si connettevano molti telefoni in più, quando magari veniva portata una console si connetteva anche una console in più, quando veniva portato un PC si connetteva un PC in più e questo ha creato seri problemi. Il primo problema che si creava era che nuovi dispositivi, in questo caso, non potessero connettersi, oppure che vecchi dispositivi che dovevano già essere connessi, come ad esempio gli assistenti virtuali o le lampadine, smettessero di rispondere. Se è una lampadina te ne accorgi perché l'assistente ti dice dei tali lampadina non risponde, verifica connessione di rete e alimentazione. E l'unico motivo poteva essere che ci fossero appunto troppi dispositivi connessi. Ma io non ci volevo credere, mi sembrava veramente eccessiva come situazione, perché a detta di Vodafone, questa Vodafone Station dovrebbe supportare fino a 120 dispositivi connessi contemporaneamente. Di fatto non è assolutamente così come già mi aspettavo in realtà. E di fatto non è che facciano chissà cosa questi dispositivi smart, non è che devono stare sempre connessi a scambiare dati, a consumare banda, perché c'è una bella differenza tra 50 dispositivi che stanno entrambi consumando banda, caricando, scaricando un video, cosa veramente pesante, con 50 dispositivi che non fanno assolutamente niente, che consumeranno forse qualche kilobyte di dati. Quindi ovviamente non si tratta di un problema di banda, perché facendo anche uno speed test la velocità non era assolutamente influenzata e adesso ve lo faccio anche vedere. Ora siamo con tutti i dispositivi connessi, vado a fare uno speed test, come potete vedere probabilmente saremmo attorno ai 60-70 MB, insomma in genero 100 MB, ma sto facendo alcune cose, sto anche caricando un video, quindi è anche normale che la situazione sia questa. Quindi non si parla assolutamente di un problema di velocità. Ho iniziato quindi a insospettirmi e a pensare appunto che il problema fosse l'hardware e cercando su Google in tanti a quanto pare hanno avuto lo stesso mio problema, anche con le versioni precedenti della Vodafone Station. Ad alcuni venivano disconnessi determinati dispositivi, alcuni non riuscivano a connetterne di nuovi, ad alcuni addirittura si riavviava il modem, cosa che purtroppo ha iniziato a fare anche la mia Vodafone Station, anzi le mie Vodafone Station, perché si dà il caso che questo problema lo abbiano entrambe. Io non so davvero come abbia fatto uscire così piena di problemi questa Vodafone Station, perché finché il problema è non puoi connettere più di tot dispositivi, io lo capisco, è un modem fornito in dotazione, tutto quello che vuoi non può ovviamente avere la stessa potenza di un modem di terze parti, che magari costa il doppio e non ti viene dato a gratis. Ecco, in questo caso però, il problema dello spegnimento del modem non sembra dipendere dal numero di dispositivi connessi e non sembra dipendere assolutamente da nient'altro. E adesso vi spiego anche il motivo. Io ho deciso di mettere, come potete vedere da qui, un bel UPS che permette di isolare il modem, tutta la baracca che ho messo qua insieme, dalla rete elettrica, che quindi permette di evitare che ci siano sbalzi di tensione ai modem. Io ho provato un sacco di soluzioni, ce le ho cercate tanto online e non c'è stato modo di venirne a capo. Continuava a riavviarsi, continuavano entrambi a riavviarsi. Ho provato a scambiarli, non cambiava assolutamente niente, perché ovviamente puoi scambiare i modem di Vodafone senza fare nessuna configurazione tra due linee diverse. Alla fine, quindi ho detto, va bene, va bene, provo a mettere un router in cascata al modem di Vodafone, magari così cambia qualcosa. In breve, come funziona la situazione? Tu connetti a questo, questo qui, che è un router veramente con i controcoglioni, un Nighthawk di Netgar, costa 2p8, ecco, giusto per capire, lui vede tutti i dispositivi, lui gestisce tutti i dispositivi, il modem Vodafone vede solo il Nighthawk connesso, ok? Quindi un solo dispositivo per cui non dovrebbe avere nessun problema, dovrebbe funzionare più o meno da Switch. In questa maniera non è cambiato assolutamente nulla. Il modem Vodafone decideva ugualmente di riavviarsi. L'unico problema risolto era quello del numero di dispositivi, che fortunatamente sono supportati senza problemi dal Nighthawk. Quindi, cosa ho deciso di fare? Ho detto, beh, allora non mi basta un router in cascata, mi serve anche un modem router. Ed ecco che sono arrivato a quest'altro qua. Non è niente di che è relativamente economico, costa un centinaio di euro, è un Archer di TP-Link. Devo dire però che finora non mi ha dato assolutamente problemi. Di fatto, ecco, lui vede solo il Nighthawk e qualche altro dispositivo. E il Nighthawk, che credo così a naso, essendo che costa di più, sia più potente, più performante, gestisce tutto il resto. Ed ecco qui, quindi, la baracca che mi sono dovuto creare. Ed è veramente ironico che comunque sia necessario fare questo tipo di lavoro quando ci devi lavorare, ma non solo. Anche se tu devi magari giocare online, devi fare qualcosa che richieda una connessione sempre funzionante. Perché adesso, comunque, di dispositivi Wi-Fi, soprattutto in una famiglia, ce ne possono essere davvero tanti. Mettiamo caso ci sia una famiglia di, che ne so, tre figli, madre e padre. Magari la madre ha un tablet, il padre ha un tablet, la madre ha un telefono, il padre ha un telefono. I figli hanno ciascuno un tablet, una console, un telefono a testa. Ci hanno qualche luce smart. Anche se non ti fai tutta la casa gestita con la domotica smart, in ogni caso hai un sacco di dispositivi connessi. Ed è per questo che, appunto, tutti gli operatori stanno cercando di vendere o di darti comunque in abbonamento anche altri dispositivi per gestire tutta questa situazione. Ma per quanto mi riguarda, secondo me, dovrebbe farcela tranquillamente questo modem qua. Semplicemente per il fatto che questo, che va bene, paghi a parte, ma questo ce la fa. E un altro problema che si pone è che nessuno ti aiuta. Se tu chiami un operatore e gli esponi questo problema, a parte il fatto che adesso ci arriviamo, in genere sono male informati, ma comunque l'unica soluzione che ti propongono è il cambio del modem. Ma io ho sentito in tanti forum che il cambio del modem non sia servito a niente. Oltre al fatto che io, appunto, ne ho due. Vuoi che tutti i due siano fallati? Non credo sia quello il problema, sinceramente. E a riprova di questo, il fatto che sia fallato proprio il modem di per sé, c'è il fatto che questo, che comunque di fatto non è che costi chissà quanto, e questo, che comunque di fatto non è che costi chissà quanto in più, ce la fanno senza problemi. Quindi tu non hai una scelta, purtroppo. È questo che mi mette un po' malinconi, è questo che mi dispiace. Se tu, appunto, chiedi a Vodafone, non hai scelta, non è che hai a disposizione un modem più potente, sai, paghi di più, pago 10, 15, 20 euro al mese in più, pago du piotte, mi prendo un modem più potente. No, l'opzione non ce l'hai con l'operatore. Devi, purtroppo, sempre rivolgerti a terze parti. E questo mi dispiace, perché, appunto, Vodafone mi ha sempre dato un servizio veramente ottimo. Io non voglio adesso assolutamente fare troppa polemica, il giusto è, attenzione, io, essendo un po' appassionato, un po' smanettone di sistemi reti e di questo settore in generale, anche dell'informatica, delle telecomunicazioni, qualcosa so, e in genere vado ad informarmi prima di fare qualcosa, anche in questo caso. Anche se non me ne intendo, non so niente, cerco di informarmi. Ecco, cosa che non vedo, purtroppo, da parte degli operatori, ma in generale di tutti gli operatori e del personale che ti risponde al telefono, per capirci. Tu chiami Vodafone, ti risponde, purtroppo, gente che non sa niente. Si vanno a cercare, quindi, competenze che si andrebbero a cercare da un altro operatore, magari dico, un call center, da, appunto, un commesso, da qualsiasi altra persona. E questa è stata la mia ennesima avventura con la connessione ad internet. Spero che questo video possa avervi interessato, avervi detto qualcosa di nuovo. Io vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo alla prossima.